spagna italia oracio sanchez mirada del corazon e arte con il corazon come voi potete vedere ci sono rappresentate riprese varie forme d'arte dal cinema alla poesia al teatro la pittura la musica il cuore il cuore deve essere in tutte le attività che noi facciamo dove c'è passione c'è competenza e c'è amore mirada del corazon in modo di guardare attraverso gli occhi del cuore bellissima questa opera al tecnicamista l'artista è molto legato al nostro territorio ritrae questo simbolo universale e in tanti significati con tanti significati dalle mille sfaccettature dalle mille sfumature in chiave moderna concettuale e contemporanea le opere dell'artista sono armoniose ed equilibrate e dalle tinte delicate le composizioni sono molto interessanti e pregevoli e il tratto con cui sono state seguite rivela la competenza e la maturità artistica dell'autore scagnolo ripeto ancora il nome e orazio manuel sanchez artista numero 21 qui alla collettiva d'arte a muccia 76 artisti che si sono prodigati insomma per venire nelle nostre aree e partecipare a questa esposizione collettiva con oltre 100 opere ci vediamo a muccia a vedere queste opere dal vivo che meritano veramente